La partita sicuramente sarà una partita agonisticamente molto valida, tra due squadre che stanno facendo bene. Il Taranto è una squadra con delle caratteristiche ben definite, una squadra molto compatta che ti rende spesso la partita complicata. Quindi noi dobbiamo essere lucidi, lucidi nelle giocate, lucidi nel ricercare quelle che sono le nostre caratteristiche, le nostre prerogative. Prestando grande attenzione alle loro transizioni, perché è una squadra che si chiude molto bene ed è molto brava a ripartirti nel momento in cui va a recuperare palla. Dobbiamo fare una partita importante, come sempre, perché vincere non è mai semplice in questo girone. Sappiamo che ci aspetta una partita di grande intensità fisica, mentale, dove ci vuole la giusta personalità e il giusto coraggio per far emergere quelle che sono le nostre prerogative, che poi sono le caratteristiche che ci hanno portato a costruirci questa bella classifica. No, vabbè, l'aspetto tattico, l'aspetto degli uomini naturale che incide sempre, ovviamente. Però, secondo me, più di quello, in questo momento, l'ho detto già, quello che sta incidendo in questa fase del campionato è la grande maturità che sta dimostrando questa squadra, che ha acquisito questa squadra. Alcune partite, ve l'ho già detto, magari in altri momenti non le avremmo vinte o magari avremmo vissuto emotivamente, nel modo sbagliato, alcune difficoltà. Oggi stiamo riuscendo, dove stiamo facendo, secondo me, dove abbiamo fatto un grande salto in avanti e ha permesso alla squadra, secondo me, di raggiungere obiettivi straordinari e risultati straordinari, sta proprio nella capacità di vivere i vari momenti della gara, nella capacità di adattamento, che è fondamentale. Domenica siamo andati sotto, ma non abbiamo perso la calma. Siamo ritornati in campo con la consapevolezza che potevamo rimetterla a posto, tornando a fare magari o facendo meglio, perché poi si è parlato, ho sentito parlare molto di un primo tempo, non all'altezza, invece il secondo, solo perché si ribatta il risultato. Sicuramente tra primo e secondo tempo abbiamo alzato la qualità delle giocate, ma per quanto riguarda il dominio della gara, i dati ci dicono che sia il primo tempo sia il secondo tempo eravamo in pieno controllo. Perché poi ci sono sempre numeri a confermare, quella che è la bontà o meno di una prestazione. Quindi noi stiamo avendo la nostra crescita e sicuramente l'aspetto mentale, l'aspetto di adattamento in questo momento ci sta facendo fare quello step in su. Domani sarà una partita dove questo adattamento sarà ancora una volta fondamentale, perché dovremo adattarci a un certo atteggiamento della scuola avversaria, dovremo adattarci a un manto erboso che da quelle che sono le notizie non è nelle migliori condizioni. E' ovvio che noi sul nostro campo, essendo in sintetico, si può palleggiare con grande serenità e anche con grande velocità. Su un campo non proprio perfetto è ovvio che i tempi di giocata si allungano. L'avevamo vissuta però già a Monopoli dove ci eravamo adattati secondo me bene e dovevamo fatto comunque un ottimo risultato e dobbiamo farlo anche domani, riuscendo a capire momenti in cui, come a noi piace, come noi proviamo a fare sempre, si può palleggiare con qualità e ci saranno dei momenti in cui magari bisogna essere un po' più lucidi, un po' più verticali e riuscire a capire le varie fasi della partita e i vari momenti. Quello secondo me è il vero salto che abbiamo fatto. Poi l'aspetto tecnico è ovvio che ti dà qualcosa, Federico Domenica è entrato bene, ci ha dato determinate soluzioni, ma quello secondo me è importante ma in maniera secondaria. Innanzitutto non è vero che non sono amante delle statistiche, anzi io le statistiche le eseguo tanto e cerco però di interpretarle nel modo giusto. Quindi questo che stai dicendo dà la dimostrazione. Il Taranto è già una squadra in linea di massimo, l'ho detto prima, difficile da battere, una squadra che ti rende la partita sporca e tendenzialmente non fa giocare bene quasi nessuna squadra. Questo è un dato di fatto e questo è un merito, non lo dico in senso dispregiativo, anzi, è un merito. Sicuramente loro, l'ho detto prima, hanno determinate caratteristiche e hanno anche una buona squadra perché poi, al di là che mi sembra che tutti giocano un po' a nascondino in alcune situazioni, il Taranto ha giocatori importanti, davanti la coppia Saraniti-Giovinco è una coppia che in Serie C penso che sia una coppia di alto livello e in mezzo al campo hanno Max, un giocatore che io ho avuto, un giocatore di carisma, di personalità, che poi a Taranto sente anche questa responsabilità in più e sta facendo un grossissimo campionato. Hanno forse dietro una squadra un po' più giovane, però secondo me Riccardi è un giocatore giovane che ora sta facendo bene e che se si vede il percorso di Riccardi, è vero che gioca, è un 96 se non mi sbaglio, ma ha giocato nel Lecce, Serie A, Serie B, ha giocato nel Venezia che ha vinto il campionato, cioè parliamo di un ragazzo che comunque è stato in piazze importanti e quindi era un giocatore di livello. A loro hanno aggiunto dei giocatori sicuramente emergenti e hanno fatto molto bene il loro lavoro perché Civilleri, per dire, è un giocatore che non conosciamo che a loro sta facendo bene. Vabbè, Ferrara lo conosciamo perché lo seguiamo nel girone H, Versienti uguale l'ho avuto, un giocatore alla prima esperienza in cima, secondo me è un giocatore forte, Leo, è un giocatore che ha avuto il piacere di allenare. Insomma, secondo me loro si sono mossi bene, hanno fatto una rosa importante e stanno facendo un buonissimo campionato. Quindi non mi stupisce il Taranto, non mi stupisce assolutamente che sia nella griglia pre-off. Ma no, io penso che stiano dando già il 120%, quindi ci accontentiamo di avere da loro quello che già ci stanno dando a livello di atteggiamento, di intensità, di voglia di essere protagonista all'interno della squadra in questa stagione. Quindi sono convinto che loro devono essere tranquilli e devono fare la loro partita come stanno facendo sempre. Poi la mia speranza, a proposito di statistiche, io sarei contentissimo di rifare le statistiche dell'andata. Cioè metterei la firma ora per rifare le statistiche della partita di andata. Perché secondo me una partita in cui hai fatto il 65% di possesso vuol dire che per due terzi della gara hai il pallino del gioco e quindi hai grande possibilità di giocare. Vuol dire che ogni tre minuti, due minuti hai la palla tu. Quindi insomma, questo ti darebbe sicuramente più possibilità di fare azioni offensive, di creare. Quindi io spero che i ragazzi siano innanzitutto sereni perché il nostro percorso ci deve dare la giusta carica ma non ci deve mandare in fibrillazione. Dobbiamo essere sereni, contenti di quello che abbiamo fatto fino adesso. senza viverlo con l'enfasi quella sbagliata. Dobbiamo avere l'entusiasmo giusto di chi sa che sta facendo un percorso importante perché al di là delle parole dubito che qualcuno a inizio stagione avesse messo oggi la Virtus al secondo posto in classifica. Poi si può dire qualunque cosa però è ovvio che quello non può essere il posto che ci spetta, è il posto che ci spetta nel senso che ce lo siamo conquistati. Sul campo sì, ma sulla griglia di partenza penso che pochi avrebbero messo la Virtus seconda in classifica. Quindi noi oggi dobbiamo vivere con l'entusiasmo giusto ma con la consapevolezza che tutto quello che ci siamo costruiti ce lo siamo sudato. Ce lo siamo sudato con la grande umiltà, con il grande lavoro quotidiano. Io l'ho sempre detto, questa squadra ha iniziato un percorso, ho sempre parlato di percorso e quello che stiamo facendo è aggiungere ogni allenamento, ogni settimana, ogni partita qualcosa che sia a livello tecnico, tattico, che sia a livello di maturità mentale, che sia a livello di atteggiamento. Se noi continuiamo in questo percorso possiamo continuare a sognare una classifica grandiosa. Mister, quali sono le condizioni della squadra in generale? La squadra in generale sta bene, ovvio che ora abbiamo qualche acciacco, probabilmente avremo qualche defezione, vediamo, oggi faremo la rifinitura e vedremo chi sarà ruolabile e chi meno. Probabilmente qualche defezione ce l'avremo, però sicuramente 11 da mandare in campo li troveremo, aggregheremo probabilmente qualche ragazzo delle giovanili per avere una rosa un po' più corposa. Però sono convinto che chi sarà fuori lavorerà a sodo per rimettersi più velocemente possibile al servizio dei compagni, anche perché ci aspetta un tour de force. In questo momento l'unico aspetto negativo del perdere i giocatori adesso va al di là della singola partita, perché secondo me questo gruppo ad oggi ha sempre dimostrato di saper andare oltre alle singole assenze. Quello che dispiace un poco è che siccome ci aspettano 5 partite in 15 giorni, magari perdere qualche elemento ci porta a non poter soffrire di alcune rotazioni, anche quelle se vi ricordate quando all'inizio avevamo delle difficoltà, dove abbiamo giocato anche con 6-7 under, e dicevo che il problema non è tanto la partita, ma poter distribuire le rotazioni e avere la possibilità innanzitutto di incidere a gara in corso e poi nei turni infrasettimanali naturalmente anche far rifiatare ogni tanto qualcuno. In questo momento magari non abbiamo grandissime rotazioni e quindi bisogna avere ancora di più, come ho chiesto ai ragazzi, bisogna fare ancora di più uno sforzo nella vita privata, nell'alimentazione, nell'integrazione, cosa che stiamo facendo benissimo con lo staff medico, per recuperare più possibile perché probabilmente a qualcuno ci sarà da chiedere qualche straordinario in questi 15 giorni. Allora, no sì, non lo posso dire, non è un problema, il rigorista numero uno per noi è Maiorino, il primo rigorista è Maiorino, anche perché ha qualità, ha grandi qualità di calcio, ha la serenità giusta per battere i rigori importanti. Poi adesso si è unito Patierno, che è l'altro rigorista, e poi c'è Leo, questa è un po' la griglia dei rigoristi sulla carta, ce n'abbiamo anche altri che sinceramente sono secondo me anche abili a battere i rigori, però questi sono i primi tre rigoristi. Poi in questa griglia ci sono i momenti della gara, ci sono le situazioni, poi ragazzi a volte si gestiscono alcuni momenti, anche se a me non piace molto, loro lo sanno quello che penso, cioè per me il rigorista è uno, e finché il risultato, a volte no, si tende quando il risultato magari è acquisito a dare la possibilità a qualcun altro di battere, magari a qualcuno che non fa gol da un po', può succedere, questa situazione all'interno in una squadra ci sta, però questa è una cosa che può essere fatta ed è piacevole ed è sinonimo di gruppo compatto, purché ci sia sempre davanti il bene della squadra. Allora, se c'è un rigorista, secondo me è giusto mantenere la scaletta dei rigoristi, a meno che qualcuno poi non se la sente, allora a scalare viene quello dopo. Però bisogna stare attenti perché poi per l'allenatore non è mai facile, quando, ne abbiamo viste tante, ci ho sempre pensato alla situazione quando due parlano tra di loro per chi deve battere, no? E dal di fuori l'allenatore ha un'autorità per dire no, decido io, però comunque qualunque sia poi la scelta, mette pressione all'altro. Anche il fatto che l'allenatore dica no, tu e non tu, emotivamente mette una pressione in più, già a una situazione come il calcio di rigore, dove già c'è un forte stress dovuto a una palla che comunque può incidere sulla gara. Quindi, siccome in quei momenti, secondo me, chi deve battere deve avere la massima serenità, i ragazzi lo sanno che non mi piace vedere, diciamo, chiacchierate pre-rigo, quando c'è rigore c'è il designato numero uno, il designato numero due, si prende la palla e si batte con grande serenità perché chi batte deve avere soprattutto grande serenità. Questo non lo so, Giuseppe lo conosco, lo conosco, l'ho conosciuto sui campi da calcio, lo vedo dalle interviste che rilascia e ho sempre avuto grande stima per la persona, mi sembra un ragazzo equilibrato, a modo di grande umiltà. Probabilmente queste caratteristiche che ho elencato secondo me ci accomunano perché entrambi ci lasciamo prendere poco da dichiarazioni altisonanti o da dichiarazioni che possono in qualche modo infastidire gli altri, cerchiamo sempre di avere grandissimo rispetto. Poi in comune forse abbiamo il fatto di essere, di aver fatto un po' di gavetta, lui forse più di me perché lui è partito col Fasano facendo una serie di vittorie, io magari ho avuto la fortuna di partire subito dalla Serie D, però mia di massima abbiamo fatto tutti e due la gavetta, ci siamo tolti la soddisfazione di vincere il campione di Serie D e il girone H che non è semplice, quindi sicuramente dei punti in comune ci sono. Poi magari sull'idea da sviluppare in campo forse abbiamo delle differenze, quindi già nel modulo ci sono delle differenze, però è una persona di cui ho stima, sinceramente, gliel'ho sempre detto, lui lo sa, già da quando lo affrontavo in Serie D, quindi mi fa piacere ritrovarlo e mi fa piacere che stia facendo molto bene.